Due mercanti, poverini, sono presi da granduolo, perché i loro palloncini, se ne vanno tutti in volo. Ma Lambicchi, che è felice, quando gli altri può aiutare, ricorrendo alla bernice, pensa a come rimediare. E bernice, stesa al suolo, una foto di aeroplano, che riprende e pensa al volo, i palloni di sua mano. In carlinga svelto monta, e nel cielo, con ardore, i palloni ardito affronta, Pier Lambicchi, l'aviatore. L'aviatore è assai maldestro, l'aeroplano gli si avvita, è il momento più funesto, della tragica sua vita. E di fatti, tra gli schianti, l'apprecchio va a cadere, sulla casa dei mercanti, che in un attimo è un bracere. Piangono quelli, festamente, sulla loro calamità, ma Lambicchi è sorridente, i palloni, eccoli qua. Quelli, presi dal furore, con la furia di un citrone, ricompensano il suo buon cuore, con gran colpi di bastone. Applausi